Karl Khrushchev a bordo della sua Onna ha vinto in dato di Erna il Gran Premio di Australia, classe MotoGP. Terzissimo prova del mondiale precedendo il dottore, sto parlando di lui Valentino Rossi, The Doctor, a bordo della sua Yamaha. Autore però di una grande, immessa rimonta dopo essere partito dalla quindicesima posizione. Terzo regno del podio, terzo posto per Maverick Binales, con la sua Suzuki davanti ad un zioso a bordo della sua Ducati. Il campione fresco del mondo, Marquez invece è caduto al decimo giro, ho dedicato un video in questo canale di YouTube su questa situazione che sarebbe accaduta quando era morto in testa e però si è ritirato. Khrushchev alla sua seconda vittoria di stagione ha approfittato proprio della caduta di Maverick, Rossi in due giro e arriva al secondo posto, difendendolo poi fino all'ultimo dagli attacchi di Binales. Grazie, grazie di vivo cuore per il gentilissimo e l'onoratissimo ascolto. Il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate e un saluto a voi tutti. Grazie.